Ciao Ale, benvenuto a Paragadutismo e sull'arretto, piacere Roberto, il video, amico del Max, medicissimi, sei pronto? Ha fatto l'ancio? Dai che ci si diverte, eh? C'è il Pezza che ci passa, ci taglia, fa un passaggio a Capriola, bellissimo, ah rimanete qui stasera? Yeppa, si si vede su, si si vede su, allora ragazzi si parte, si parte ma dove si va, scusa? Miticissimi, sono the sky, si va, yeah, the sky, oh, 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 Ecco lei, 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 ecco lei Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.